Associazione di tipo mafioso, traffico di influenze illecite, estorsione e turbata libertà degli incanti aggravati dal metodo mafioso commessi per agevolare l'attività del gruppo Romeo Santa Paola. Con queste accuse i carabinieri delle Rosse di Messina hanno arrestato otto persone. Le indagini avviate nel 2017 costituiscono lo sviluppo dell'operazione Beta, eseguita nel luglio dello stesso anno e che aveva documentato l'operatività nel capoluogo peloritano di una cellula di Cosa Nostra Catanese, diretta emanazione della famiglia mafiosa di Santa Paola e sovrardinata rispetto ai clan che tradizionalmente operano nei quartieri cittadini. L'esistenza e l'operatività delle famiglie mafiose sono state recentemente confermate dal gruppo di Messina che in sede di giudizio abbreviato ha inflitto pesanti condanne ai principali esponenti del sodalizio. Grazie alle attività investigative costituite da servizi tecnici ed attività di riscontro alle recenti dichiarazioni del collaboratore Biagio Grasso è stato possibile fare luce su ulteriori vicende associative e settori di interesse della consorteria. In particolare sono stati documentati il controllo della distribuzione dei farmaci in Sicilia e Calabria e l'imposizione sfruttando la capacità di intimidazione al sodalizio dell'acquisto di farmaci da parte delle farmacie dislocate sul territorio di Messina. La commissione di azioni punitive mediante l'uso delle armi o della violenza nei confronti di esponenti di clan, cittadini, rivali e di danneggiamenti. La gestione nell'interesse al sodalizio del settore dei giochi e delle scommesse illegali. Documentato anche il traffico di influenze illecite aggravato al metodo mafioso con i membri dell'associazione che promettevano la somma di 20.000 euro a titolo di acconto da corrispondere ad un funzionario di Invitalia per ottenere l'inserimento di un progetto contro la ludopatia in una graduatoria che avrebbe dovuto consentire di ricevere un finanziamento di circa 800.000 euro di cui il 40-50% a fondo perduto. L'estorsione e danni il collaboratore Biagio Grasso costetto a cedere la propria quota societaria del valore di 220.000 euro della P&F SRL con sede a Messina. Ancora la turbativa d'asta commessa da un dipendente dell'ufficio urbanistico del comune negli interessi del gruppo alterando la gara indetta nel 2014 per l'acquisto sul libero mercato di alloggi da assegnare in locazione agli abitanti delle 95 baracche della zona di Messina chiamata fondo fucile. Nello stesso contesto è stata data esecuzione al sequestro preventivo della beta SRL società con sede a Catania operante il settore dei giochi e delle scommesse. L'attività investigativa ha confermato l'immagine di un'entità criminale capace di proiettare i propri interessi in diversi settori dell'imprenditoria che non si è limitata a sfruttare parasfitariamente ma che ha pesantemente infiltrato e finanziato il tutto ancora una volta grazie alla particolare capacità di interlocuzione con professionisti ed ambienti istituzionali in un percorso trasversale in cui il ricorso alla violenza è rimasto sullo sfondo limitato ai momenti di particolare criticità e nei rapporti con i clan di quartiere.